Elezioni comunali, c'è la data. Si voterà Ferriere e Castelvetro il prossimo 26 e 27 maggio. Il ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, ha fissato la chiamata alle urne per l'elezione diretta dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di ballottaggio è in calendario per domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013. Sono 655 comuni italiani chiamati a rinnovare le amministrazioni, due quelli della provincia piacentina, Castelvetro e Ferriere, entrambi guidati da primi cittadini di centrodestra alla scadenza di due mandati consecutivi, rispettivamente Francesco Marcotti e Antonio Gugliati. Ferriere ha già nominato un candidato. Si tratta di Giovanni Malchiodi, attuale vice-sindaco nella giunta a Gugliati. Il centrodestra di Castelvetro non ha ancora eletto un delfino che raccoglierà l'eredità di Marcotti, mentre il gruppo di minoranza, il cui candidato potrebbe essere Luca Quintavala del PD, ha dato il via a una serie di incontri tematici sul territorio rivolte alla popolazione. Nelle elezioni del 2008 Ferriere aveva votato circa il 60% della popolazione e Antonio Gugliati aveva vinto con quasi il 70% delle preferenze. A Castelvetro si era recato alle urne l'83% dei cittadini e Francesco Marcotti era stato eletto sindaco con il 60% delle preferenze. Grazie. 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 Grazie.